Allora abbiamo tanto insistito, ma tanto, tanto, tanto insistito, ma suor Daniela Scarpellini è arrivata qui. Grazie e ben arrivata con noi. Madre generale della congregazione delle suore francescane della Sacra Famiglia, Romagnola Doc, puro sangue, lo dice non a me, meravigliosa e soprattutto un artista in cucina. Sì, mi piace mangiare, quindi so cucinare. Guardi, non sempre va di pari passo, madre, non lo dica a me, l'ha preso, anche a me piace mangiare, ma non so praticamente cucinare, ma questa è un'altra storia. Lei è brava in cucina perché tutto questo nasce, poi arriviamo ovviamente al suo abito, nasce da una passione vista in famiglia, no? Sì, credo di sì. Mi sono sempre chiesta chi abbia deciso che io frequentassi l'istituto alberghiero, probabilmente qualcuno che è riuscito a vedere qualcosa in me che io a quei tempi non vedevo perché era un po' confusa, ma più sono passati gli anni, più mi piace e continuo a farlo, continuo a farlo con le sorelle, continuo a farlo con gli ospiti e quando magari sono un po' agitata mi accorgo che la cucina è il luogo migliore dove far passare le agitazioni. Dove far passare l'agitazione. Qual è il suo piatto forte? Perché guardi che tutte queste sembrano notizie così, ma in realtà ci portano alla sua storia. Allora, il mio piatto forte non c'è, nel senso che io non ho ricette e non non ho nulla. Io apro il frigorifero, guardo cosa c'è e vedo il volto delle sorelle, l'espressione che hanno, il desiderio che hanno e poi recupero quello che c'è, non riesco a programmarmi prima. Quello che c'è e si inventa. Che è l'arte anche del non buttare via niente, del saper... Del non sprecare, del recuperare, del trasformare. Saper trasformare. Allora, Sor Daniela. Sor Daniela è una bambina di soli 13 anni e improvvisamente diventa... deve diventare grande, no? Da un istante all'altro perché viene a mancare la sua mamma. Esatto. E a 13 anni? È un po' complicato. È un po' complicato, traballano tante cose e si inizia a lottare. Io dico sempre, se ho ricominciato il giorno dopo quel giorno non ho più paura. Quando le situazioni sono complicate ho detto, vabbè, se ce l'ho fatta in quel febbraio dell'82 non ho più paura di niente. Magari le cose sono complicate ma ce la facciamo. La sua mamma era... beh, se lei aveva 13 anni, la sua mamma era una... abbiamo vista... Era molto giovane, aveva 39 anni. È una donna molto forte. Mi dicono, mi hanno detto che durante una visita oncologica il medico gli ha detto potrebbero essere rimasti sei anni di... sei mesi di vita. E sembra che lei abbia detto no, i miei figli lì io li faccio grandi. E quindi ha combattuto ed è andato avanti per otto anni. Con generosità... col talento che hanno le mamme di non... di andare oltre i numeri, no? Esatto, e di aver voglia di vivere. Ed è la cura, credo che... di aver imparato molto questo. Cioè, il prendersi cura dell'altro ti fa andare oltre, oltre a tante cose. Sor Daniela, lei... lei frequentava la sua comunità parrocchiale, diocesi di Cesena? Diocesi di Cesena, un piccolo paese che si chiama Sala, vicino a Cesenatico la riviera Adriatica e quindi è sempre molto stimolante la riviera Adriatica, soprattutto quando si è giovani. Sono tante le esperienze. La comunità parrocchiale era molto bella. Non ho mai capito se frequentavo perché c'era una bella amicizia con altre persone o per dei valori, però in sé è stato un bel cammino. Lei prendeva tutto, no? Cucinava tutti quegli elementi, la comunità parrocchiale, la compagnia, il mare, le persone... Il lavoro. Il lavoro, metteva tutto quanto insieme. Le fatiche, qualche sofferenza. Le fatiche e qualche sofferenza. Lei fa un anno in Caritas, no? Esatto. Ma fa un anno in Caritas da ragazza, da... Da giovane, sì. Dopo tre anni, quattro anni di lavoro nei ristoranti, mi sono fermato un attimo perché ho visto che era un ambiente bello, bello, lucido, a quei tempi c'era anche una circolazione di denaro, di possibilità, di opportunità importanti e ho deciso di fermarmi. Ci stavo bene per la cucina ma non ci stavo bene per tutto il resto. E allora avevo sentito parlare di questo anno di volontariato sociale e ho detto ma che cos'è? Sono andata un po' a cercare e ho fatto un servizio di un anno gratuitamente presso il centro di ascolto della Caritas di Cesena. E, Suor Daniela, poi arriva il momento in cui lei diventa Suor Daniela, no? Non prima di fare, forse, di superare l'ultimo pezzo di salita, come faceva Pantani, no? Quando proprio la salita è così. Esatto. Che era riappacificarsi con Dio per quello che era successo a sua mamma e per quello che sua mamma aveva sofferto e che poi avevate sofferto voi. Quella era la strada da seguire per poter diventare quella che lei è oggi? Sì, era... è stato un po' un cammino un po' lungo, però il desiderio era proprio di arrivare fino in fondo. Quando una persona sta male, quando tu non vuoi più fare niente, ti rimane la preghiera. E quando sei bambino, ragazzina, pensi che la preghiera arrivi là dove non arrivi il resto. Quando vedi che questo non funziona, insomma, ti viene da chiudere qualche porta. Ti viene da dire ci ripensiamo più avanti, per adesso non è cosa. Poi, appunto, attraverso l'esperienza in Caritas, attraverso l'incontro della povertà, di alcune sofferenze, inizia a dire forse c'è qualcos'altro. È vero, può essere che il Signore si sia distratto in quel momento, oppure può essere che debba servire per qualcos'altro. E diventa Suor Daniela. Questo è applauso, perché questa è una donna che nasce nella fede e nella forza. Binario 5. Binario 5. Non stiamo partendo in treno, ma quasi. Siamo andati a recuperare, perché tutto questo accadeva poco più di un anno fa, dai nostri colleghi di Siamo Noi. Qualcosa che ci spieghi di che cosa stiamo parlando. Sempre la nostra Antonellina Ferrara. Vedete, guardate un po'. Il binario 5 è un luogo accogliente, caldo. È un luogo dove i ragazzi possono appunto venire presto la mattina per stare. Chi vuole ripassare può ripassare, chi non ha da ripassare può giocare con noi, può chiacchierare. C'è una cena che ci sono quattro binari, da cui i treni partono, arrivano e partono. Invece il binario 5 è proprio un binario dove c'è un treno apposta per accoglierli, ed è sempre lì per i ragazzi. Il progetto del binario 5 è nato da una riflessione di Suor Daniela, che è la madre delle suore della Sacra Famiglia di Cesena. Suor Daniela rifletteva sul fatto che le vite di questi, in particolare degli adolescenti, a volte prendono delle strade non belle. I ragazzi che frequentano il binario 5 sono ragazzi che vengono non da Cesena, ma dalle periferie. Avevamo bisogno di un posto così, non essendoci strutture di questo genere. Per noi ragazzi che arriviamo presto è un'occasione importante. Insomma, lei ha spalancato le sue braccia e quindi andate dall'asilo, voi date effettivamente asilo agli studenti, a tutti gli effetti. Sì, stiamo cercando di dare una porta aperta, un luogo di incontro. Abbiamo un po' ragionato nell'ambito della stazione di Cesena, nel raggio di 650 metri, ci sono tutte le scuole superiori secondarie. Passano dalle scuole medie alla facoltà universitaria indicativamente 7-8 mila giovani al giorno, andate e ritorno. E non c'era un luogo, e non c'è un luogo che non sia un bar, che non sia un ristorante. Assolutamente. E ci ha pensato lei? Abbiamo provato insieme, eravamo in diverse, abbiamo iniziato a bussare e questa associazione ci ha aperto, questa cooperativa ci ha dato una stanza. Abbiamo trovato purtroppo molte porte chiuse. Ma lei è una che le butta giù, suor Daniela, adesso non faccia quella. Cantiere 411, lo so, siamo in ritardissimo. Cantiere 411 che cos'è? È il fratello più grande del binario 5, è un centro educativo nato 15 anni fa che accoglie ragazzi del quartiere per farli studiare, per integrare, per giocare. È aperto tutti i pomeriggi e accogliamo chi magari è a casa da solo, soprattutto se ha problemi con la lingua. Eccola lì, suore francescana della sacra famiglia. Sapete che caratteristica ha questa suora davanti a noi, questa madre? Parla fuoco lento. Mi chiamano Diesel. Parla fuoco lento ed è il modo, questo lo so pure io che non sono un genio in cucina, in cui in cucina si fanno cose grandi perché c'è tutto il tempo di prepararle. Alziamoci in piedi. Grazie a lei, si metta qua vicino a me. Allora, con questo abito che viene da un filato che arriva direttamente dalla Colombia perché le suore francescane della sacra famiglia aiutano anche così chi sta dall'altra parte del mondo, vi abbiamo presentato un gigante. tra poco la recita della coroncina della divina misericordia e poi aspettiamo le altre ore 14 per riavervi in studio. Venga qui con l'ora solare, si faccia dare un abbraccione di quelli, ma di quelli, ma di quelli, grazie. 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 Grazie.